L'agricoltura è in continua evoluzione. Nuove tecnologie, nuove conoscenze, nuove sfide. E finalmente un nuovo modo di affrontarle, capace di migliorare sensibilmente il tuo lavoro, rendendolo più fluido, più efficace, più produttivo. SDF Smart Farming Solutions, la rivoluzione del tuo lavoro. Il sistema di soluzioni digitali integrate, pensato per una nuova generazione di agricoltori. La tua, più attenta alla semplicità, all'efficienza, all'eccellenza. SDF Smart Farming Solutions ti offre una vasta gamma di soluzioni digitali di ultima generazione. SDF Data Management, SDF Guidance, iMonitor, iSobas. SDF Data Management. Più connettività per il tuo lavoro. SDF Data Management è la famiglia di soluzioni digitali all'avanguardia, che mette in relazione l'intero universo dei tuoi dati e li elabora al meglio sotto ogni aspetto. E con la nuova SDF Data Platform hai un'unica porta d'accesso a tutti gli strumenti per gestire i dati più importanti e massimizzare il livello di efficienza. SDF Farm Management. Più di un'app. Una piattaforma innovativa per la gestione ottimale di tutte le attività della tua azienda. SDF Farm Management. Integra i dati delle macchine, del campo e dell'azienda agricola, trasformandoli in funzionalità intelligenti. Così ogni tua decisione sarà sempre la migliore. Tra le varie funzionalità trovi InCamp, per monitorare in tempo reale i dati del trattore e registrare automaticamente le attività in campo. E EasyBus, per supportare l'operatore nell'applicazione in campo di mappe di prescrizione su macchine non isobas. In più puoi gestire gli allerti all'interno dell'app e attivare la compilazione automatica del quaderno di campagna, includendo le informazioni sulla posizione. Tutto sul tuo smartphone o PC. Tutto sempre nelle tue mani. SDF Fleet Management. L'applicazione che ti fornisce informazioni sulle performance del tuo trattore in tempo reale e da qualsiasi luogo. Dalla manutenzione personalizzata a Geofencing, che ti assicura di lavorare sempre entro i confini predefiniti. E puoi beneficiare della connessione da remota da e-monitor, per ottenere il supporto di cui hai bisogno. Il tuo trattore, sempre connesso. AgriRouter. Un sistema aperto e universale, che mette in comunicazione mezzi agricoli e applicazioni software, compatibili con lo standard, per offrirti la massima libertà nella scelta della soluzione più adatta per la tua attività. SDF Guidance. Più precisione per il tuo lavoro. Tra i più avanzati sistemi di guida automatica, SDF Guidance ti assicura un livello di precisione centimetrica e ripetibilità. In combinazione con Isobus, ti permette di gestire in modo automatico fino a 200 sezioni. La tecnologia SkyBridge garantisce continuità di precisione anche in caso di temporanea assenza di correzione, fino a un massimo di 20 minuti. E per agevolare le tue manovre hai a disposizione AutoTurn, che gestisce in modo automatico l'inversione di marcia a fine campo. Così puoi dedicare la tua attenzione esclusivamente alla lavorazione. A e-monitor. Più controllo per il tuo lavoro. In un'unica interfaccia il controllo totale di tutte le applicazioni della macchina. Con la funzione X-Tend puoi ampliare la tua visione su più schermi, per facilitare il tuo lavoro, farti risparmiare tempo e aumentare la tua produttività. Isobus. Più accessibilità per il tuo lavoro. SDF ti assicura la massima compatibilità con macchinari Isobus. In più migliora l'efficienza delle tue macchine da lavoro con Team Tractor Implement Management, il linguaggio bidirezionale che consente all'attrezzatura di governare automaticamente alcune funzionalità del trattore, quali velocità e idraulica. SDF Smart Farming Solutions è l'insieme di tante nuove tecnologie progettate per essere più efficaci. Inizia una nuova rivoluzione. SDF Smart Farming Solutions. La rivoluzione del tuo lavoro. Sono di più migliorare nella londazione del tuo lavoro.